carissimi pace buona giornata di benedica 3 aprile siamo di nuovo insieme spero che state tutti quanti bene e spero che la grazia e la benedizione di dio possa essere abbondante sulle vostre vite questa mattina continuiamo a leggere nel capitolo 2 del libro di david plat seguimi libro edito da clc crociata del libro cristiano scrive l'autore pensiamo bene all'antefatto biblico e a come si giunge al giorno fatidico in cui quattro pescatori udirono per la prima volta l'invito di gesù a seguirlo questa storia nel primo libro del nuovo testamento ci riporta indietro al primo libro dell'antico testamento vale a dire la genesi dove il primo uomo e la prima donna peccarono contro dio e furono allontanati dalla sua presenza resi orfani del loro creatore in seguito alla loro ribellione il resto dell'antico testamento racconta la storia dei loro malvagi discendenti in men che non si dica omicidio impietà immoralità sessuale corruzione eccetera riempiono le pagine della bibbia solo sei capitoli più avanti diventa chiaro che l'inclinazione del cuore di ogni persona è decisamente malvagia fin dall'infanzia il giudizio di dio sulla depravazione dell'uomo e al tempo stesso spaventoso e devastante quando egli sommerge tutto il mondo in un diluvio e poi distrugge le città dedicate al peccato un'indagine attraverso le pagine dell'antico testamento evidenzia un castigo severo sia verso il peccato sia verso il peccatore quando ad esempio il fuoco piomba dal cielo su sodoma gomorra dio da precise istruzioni a lotte la sua famiglia a fuggire senza voltarsi a riguardare queste città disubbidendo la moglie di lot si volge con lo sguardo e perde all'improvviso la vita sul monte sinei cade del fuoco in una manifestazione della gloria di dio poi dio dona al popolo la sua legge lo istruisce a riposare durante lo shabbat di lì a poco un uomo è sorpreso a raccogliere spighe durante lo shabbat ed è portato in giudizio davanti al signore in risposta al peccato e alla disubbidienza di quest'uomo dio dichiara che deve essere lapidato e messo a morte lo stesso destino tocca ad acan e alla sua famiglia quando li subiscono al comandamento di dio di non conservare il bottino di una battaglia i figli di aronne nadab e abiu offrono un fuoco non autorizzato davanti al signore nel tabernacolo e sono immediatamente uccisi pur essendo stato ordinato a tutti di non toccare l'arco del patto utsa si sporge per non farla cadere e muore all'istante e molti leggono storie come queste nell'antico testamento e si sentono confusi ma dio non è forse un dio d'amore questa punizione per il peccato non è forse troppo severa disintegrati per essersi girati indietro lapidati per aver raccolto delle spighe consumati per un'offerta sbagliata e uccisi per aver toccato inadvertitamente qualcosa tali domande per quanto sincere rivelano un problema di fondo nel nostro modo di vedere le cose siamo naturalmente portati a considerare il peccato tenendo gli occhi incentrati sull'uomo la regione per cui ci chiediamo se queste punizioni non fossero eccessivamente dure e che noi non riusciamo neppure a immaginare di poter mai reagire in questo modo se simili affronti fossero diretti contro di noi quando qualcuno risubbidisce a noi o fa qualcosa che gli abbiamo chiesto di non fare non traiamo la conclusione che dovrebbe morire la punizione per il peccato però non è determinata dal modo in cui noi lo misuriamo la punizione per il peccato è determinata dalla grandezza di colui contro cui il peccato è stato manifestato se pecchi contro un tronco d'albero non sei reo di una grave colpa invece se pecchi contro un uomo o una donna allora sei assolutamente colpevole e se pecchi contro un dio infinitamente santo ed eterno sei infinitamente colpevole e degno di un castigo eterno azem un arabo seguace di gesù e mio amico stava recentemente condividendo il vangelo con un tassista del suo paese questo pensava che per il suo peccato avrebbe scontato un po di tempo all'inferno poi però successivamente sarebbe di sicuro andato in paradiso in fondo non si era comportato così male allora azzem gli disse se ti dessi uno schiaffo in faccia che cosa mi faresti e il tassista rispose ti sbatterei fuori dal tassi azem continuò se mi avvicinassi a una persona a caso per strada e le dessi uno schiaffo in faccia che cosa mi farebbe questa persona il tassista disse probabilmente chiamerebbe i suoi amici e ti picherebbero azem rispose e se mi avvicinassi a un polizotto gli dessi uno schiaffo in faccia che mi farebbe il tassista replicò saresti di sicuro colpito e poi mandato in galera e alla fine azzem pose questa domanda e se mi avvicinassi al re di questo paese gli dessi uno schiaffo in faccia che cosa mi succederebbe allora il tassista guardò azzem e scoppiò a ridere disse ad azzem moriresti a questo punto azzem disse vedi la severità con cui un peccato è punito è sempre un riflesso della posizione della persona con cui si è peccato così il tassista si rese conto di aver pesantemente sottostimato la gravità del peccato contro dio e tu hai sottostimato la gravità del tuo peccato ci sono buone probabilità che tu possa essere indotto a farlo anche in chiesa perché ci siamo convinti gli uni gli altri decisamente per troppo tempo di essere in fin dei conti delle brave persone che hanno semplicemente preso qualche decisione sbagliata e alle quali basta invitare gesù nel proprio cuore per risolvere il problema ma la realtà è che nel profondo di noi siamo dominati dal peccato e non possiamo riuscire a risolvere il problema del nostro rapporto con dio semplicemente facendo un invito a gesù vieni nel mio cuore e amen perché la parola del signore ci insegna che la nostra condizione davanti a dio è decisamente più disperata di quanto noi possiamo pensare la bibbia infatti ci insegna che come dice l'apostolo paolo nello scrivere l'epistola romani non c'è nessun giusto neppure uno non c'è nessuno che capisca non c'è nessuno che cerchi dio tutti si sono sviati tutti si sono corrotti non c'è nessuno che pratichi la bontà neppure uno la loro gola è come un sepolcro aperto con le loro lingue hanno tramato frode sotto le loro labbra c'è veleno di serpenti la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza i loro piedi sono veloci a spargere il sangue rovine calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace non c'è timore di dio davanti ai loro occhi ci rendiamo davvero conto di tutto questo il nostro problema non è semplicemente che abbiamo preso certe decisioni il nostro problema non è solo che ci siamo infilati in un pasticcio il nostro problema è che siamo fino al midollo del nostro cervello ribelli contro dio e totalmente incapaci di volgerci a lui questo la bibbia intende quando dice che siamo morti nel peccato quando paolo scrisse ai cristiani di efeso e disse eravate morti nelle vostre colpe nei vostri peccati ai quali un tempo vi abbandonaste vuol dire che erano completamente morti non parzialmente morti non quasi morti non morti a metà non più o meno morti completamente morti e come possono delle persone morte invitare qualcuno a dare loro vita prima che tu fossi nato ha invitato i tuoi genitori a metterti al mondo quando il cuore di un uomo è morto invita forse qualcuno a risuscitarlo no tutte queste cose sono impossibili per quelli che sono morti allo stesso modo invitare gesù a venire nel tuo cuore è impossibile finché sei morto nel peccato nella tua morte è bisogno che qualcun altro totalmente estraneo a te ti chiami alla vita e ti abiliti a vivere e questa come vedremo la volta prossima è proprio l'opera della grazia riflettiamo cari e che dio ci possa benedire accompagnare ancora oggi bacio del signore a tutti quanti voi